Sicuramente sui farmaci e i farmaci ad alto costo non possono prescindere dall'attivazione di una rete oncologica regionale. È giunto il momento, anche alla luce dei dati che ci vengono fuori dai registri, dai vari registri tumori, di attivare la rete regionale oncologica qui in Puglia e quindi come tale di dare a questa rete la giusta importanza per rispondere ottimamente a quelli che sono i bisogni di salute del paziente. È importantissimo mettere nelle condizioni i clinici, i vari ospedali, i farmacisti e tutti gli operatori sanitari, metterli in condizioni di rispondere ottimamente a quelli che sono i bisogni del paziente oncologico che di per sé è un paziente fragile. Pertanto è importante cominciare ad attuare una sinergia tra tutti gli attori coinvolti e quindi quando parlo di attori coinvolti parlo dei medici di medicina generale, degli ospedali e del territorio per far sì che si risponda al meglio ottimamente a quelli che sono i bisogni di salute del paziente oncologico. La rete oncologica ha il ruolo di raccogliere quelli che sono i dati, fare uno studio di quello che è epidemiologicamente la situazione e quindi verificare la casistica e quant'altro e pertanto essere da supporto nel vero senso della parola a quelle che possono essere le decisioni dei decisori regionali per cui investire primariamente in una determinata patologia o in determinati macchinari o in determinate tecnologie che possono aiutare una patologia piuttosto che l'altra. Questo in base ovviamente a quelli che sono i dati raccolti, ai flussi dei dati informativi che vengono trasmessi e quindi praticamente la rete deve essere la cassa di risonanza di quello che ogni ospedale e ogni punto prova e sente dal territorio.